Generazione Virtuosa che mette insieme giovani e diversamente giovani per un patto con l'ambiente. L'iniziativa di oggi serve a sensibilizzare. Qual è lo spirito con cui viene affrontata? Esattamente con questo spirito. Noi incontriamo i volontari, incontriamo i cittadini dei comuni che aderiscono al progetto e proviamo intanto a raccontare cos'è il progetto spiegando quali sono i vantaggi di aderire attivamente alle iniziative che noi proponiamo soprattutto relativa al recupero e al riuso delle plastiche. In realtà poi noi raccontiamo in giro che proponiamo un patto di cittadinanza nuovo che si fonda esattamente sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto della natura, sulla possibilità di recuperare elementi che oggi sono devastanti per la natura e che in realtà possono invece acquisire un valore intrinseco importante andando proprio a recuperare e a riqualificare interi territori sulla scorta del lavoro che fa Precius. La plastica che verrà raccolta oggi a cosa servirà? Noi produciamo nel Precius Plastic a Partinico attualmente delle piastrelle. Sono piastrelle molto carine, coloratissime. Queste piastrelle a modi mosaico poi verranno apposte in alcuni luoghi simbolo delle città, dei comuni che aderiscono e serviranno esattamente a questo, cioè a riqualificare, ad abbellire, a migliorare la qualità della vita dei residenti in quella zona ma a rendere il comune parte integrante, il comune è la comunità, parte integrante di un movimento più largo che è esattamente lo spirito di Generazioni Virtuose. Lauser Montelepre è capofila del progetto Generazioni Virtuose che oggi torna a Montelepre dopo un anno da dove era partito il progetto, ritorna con una iniziativa di sensibilizzazione della comunità sul tema del riciclo della plastica. Sì, perché dobbiamo tenere alta l'attenzione su questo problema del non abbandono, di non abbandonare la plastica nel nostro territorio, nei nostri mari, nei percorsi extraurbani che abbiamo e lì dove c'è di raccoglierla, riciclarla, conferirla in questo laboratorio che si è allestito per il progetto Generazioni Virtuose azioni di riciclo mai viste, il laboratorio Precious Plastic dove la plastica viene appunto triturata poi sistemata dentro stampi che gli studenti del Corbino si sono creati, quindi fusa e si ottengono queste mattonelle che alla fine del progetto saranno destinate alle amministrazioni comunali che sono partner per la riqualificazione di angoli urbani. È la seconda iniziativa e io mi immagino, penso che ce ne saranno altre, per appunto tenere alta l'attenzione per, come si dice in questo momento, per stare sempre sul pezzo. Questo progetto è stato finanziato da Fondazione con il Sud e all'iniziativa di oggi ho coinvolto e hanno accolto questa proposta con grande entusiasmo i Runners di Montelepre e l'associazione Attivamente ODV. Sono due associazioni che lavorano a stretto contatto con i giovani e quindi abbiamo potuto così ottenere e mettere in atto quel principio fondamentale del progetto che è lo scambio culturale intergenerazionale, quindi nonni e nipoti. I nonni che insegnano ai nipoti quali sono i comportamenti virtuosi e poi i nipoti che collaborano con i nonni in quelli che sono gli scampi sulle attività dei media, dei social media. E oggi siamo tutti qui a divertirci, i ragazzi giocano sotto l'occhio vigile dei nipoti e dei genitori. È stata una bella iniziativa e ringrazio ancora le due associazioni che ci hanno collaborato. Generazioni Virtuose, oggi a Proda Montelepre, al Parco Ubrano di Montelepre. Cosa rappresenta per voi questa iniziativa? La possibilità di sensibilizzare i cittadini sul tema del riciclo creativo? Da parte dell'amministrazione c'è la massima attenzione per questo tipo di iniziative. Sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente, in questo caso anche al tema del riciclo, è una componente della nostra politica. Da parte dell'amministrazione ci sarà sempre attenzione e sempre da parte nostra la volontà di appoggiare iniziative come queste per poter incentivare il riciclo e cercheremo di fare anche altre giornate in collaborazione con Augesp per la sensibilizzazione a queste problematiche.